dai dai torniamo alle cose serie, andiamo a parlare di cocaine in orso cocaine nerds, c'ho un po' la voce nasale, scusate ma non avevo appunto cocaine per poter saturarmi il naso stamattina quindi cazzo con quella ragazzi se è buona, no vabbè forse non si può fare propaganda alla droga cocaine in orso, cocaine, cocaine in orso, cosa vi aspettate voi da cocaine in orso? chi andrà a vederlo? facciamo un sondaggio Cristian per favore, andrei a vedere cocaine in orso? sì, no, piuttosto pippo, queste sono le tre opzioni, sì, no, piuttosto pippo, non pippo vado, piuttosto pippo ora parliamo di cocaine in orso, sapete già tutti che cocaine in orso è un film che è tratto da un fatto realmente accaduto che riguarda appunto un carico di cocaina che è andato disperso in un bosco un orso ha trovato la cocaina, ne ha mangiata un po' e un po' però non è un chilo o un etto un po' è qualche grammo e sono bastati per farlo schioppare dopo pochi minuti questo aneddoto comunque è curioso, insomma all'orso gli è andata un po' di sfiga perché non sapeva che cazzo stava facendo tanti film sono nati da spunti di articoli di giornale, per esempio The Watcher, la serie tv è nata da quello infatti fa cacare in questo film è stato aggiunto tutto il resto, cioè l'orso non è che muore mangiando la cocaina, lo vedete anche nel trailer ma si inferocisce, diventa folle e brutale, famelico, ha voglia di distruggere e ammazzare chiunque insomma diventa un villain, un personaggio dei film horror, la stessa stregua di dello squalo, di Freddy Krueger di qualsiasi altro villain del cinema, smette anche un po' di essere un orso il film è diretto da Elizabeth Banks, un'attrice molto carina, molto bella, che ha fatto centinaia di film non è proprio una regista, ha fatto due film prima di questo, poi un altro film corale e un paio di corti non è una regista che ha ancora tanta esperienza e soprattutto che ha spaccato, non ha lasciato il segno non ha fatto niente di rilevante, ecco forse Cocaine Bear o Cocaine Orso è il film migliore probabilmente che ha fatto e forse è un buon inizio per la sua carriera ma vediamo com'è, è un buon inizio per la sua carriera, poi tutto è relativo esce al cinema il 20 aprile, solo al cinema quindi per il momento e al suo interno ha diversi attori abbastanza conosciuti una è Carey Russell, abbiamo l'attore di Mother Family che vedete con quella parrucca bionda nel trailer che è Jesse Tyler Ferguson, uno dei due della coppia gay abbiamo Margot Martindale che è la Ranger un po' grossa, un'attrice caratteristica che vediamo spesso e poi diciamo non ci sono altri attori degni di nota se non il grandissimo e insuperabile maestoso, grandioso, mitico, affascinante e che ci mancherà un casino Ray Liotta morto a maggio dello scorso anno Ray Liotta è un grandissimo attore e questo è, non direi neanche purtroppo perché a me sembra anche brutto in realtà il film non è un film non è assolutamente un film indegno è un film che si può apprezzare Ray Liotta è bravissimo come sempre ed è la sua ultima opera, purtroppo dico perché attori come lui che ci hanno accompagnato nella nostra crescita dispiace sempre comunque dover mettere il capitolo fine a questa cosa l'orso mangia la cocaina e diventa pazzo questa è la sinossi, siamo in un parco naturale ci sono i Ranger, ci sono le guide escursionistiche ci sono gli abitanti della zona che vanno a fare trekking, corse si può essere attaccati dagli orsi comunque anche se non si strafanno quindi attenzione attenzione a pensare che gli orsi siano gli orsacchiotti della Teddy chiaramente c'è, vi dico solo l'incipit c'è della cocaina ancora chi la vuole questa cocaina? ovviamente l'orso perché è strafatto e ovviamente i proprietari mafiosi quindi per questo c'è Ray Liotta perché i ruoli da mafiosi ne ha fatti parecchi quindi si intrecciano diverse storie quindi persone disperse una famiglia una mamma che cerca una figlia Ranger, non Ranger e appunto mafiosi alla ricerca di questo di questo orso e di questa cocaina insomma questa è un po' la storia poi scoprirete come si evolve come andrà a finire il film è un film che confonde parecchio le persone per la sua comunicazione una comunicazione non so se è vincente o no lo diranno i numeri al cinema in cui noi abbiamo un poster estremamente serioso che fa pensare a un film serio cioè a un horror serio dove c'è un'atmosfera cupa dove non c'è ilarità non c'è grottesco invece è l'esatto contrario il film di Elizabeth Banks è una horror comedy tanto per cominciare una horror comedy strana che non si smaschera subito come horror comedy e che forse all'inizio inciampa un po' perché non si capisce bene dove vuole andare a parare la prima parte del film secondo me denota l'inesperienza della Banks come regista vengono presentati i personaggi vengono presentate delle situazioni in un modo molto banale molto noioso molto ripetitivo non vediamo quell'umorismo che ci aspettiamo che ci aspettiamo perché i personaggi sono grotteschi sono ridicoli sono brutti sono tutti un po' weird e dopo un primo un prologo un prologo dove persino le prime vittime appunto questi escursionisti vengono questa giovane coppia che si deve sposare viene assalita dall'orso e e già vedremo un sacco di gore ci aspettiamo quantomeno un po' di di ironia e questa ironia non arriva non arriva non arriva e quindi pazientemente aspettiamo di conoscere tutti questi personaggi che non sono credibili ma non fanno neanche ridere oh il grande oh il grande ah no ma sì grazie oh blue grazie grazie oh blue grazie grazie ciao simo quindi noi ci aspettiamo vedendo personaggi così ridicoli della comicità che non arriva un film che fino a un certo punto è davvero pesante ed è davvero faticoso fai fatica a arrivare a a a un certo punto è un po' lentino dove l'umorismo c'è ma ti fa appena appena sorridere ti smuove di poco grazie al cielo grazie al cielo a un certo punto vi dico anche il punto ma non vi spoilerò niente il punto è l'ambulanza arriva l'ambulanza ed è uno spasso inizia a ridere di gusto inizia a ridere di gusto un po' è merito anche in effetti di un'attesa che c'è nella prima parte alcuni personaggi vengono descritti e poi esplodono poi diventano ironici però comunque l'ho patita molto la prima parte la seconda parte del film è decisamente migliore è decisamente ciò che mi aspettavo alcune battute sono esilaranti diciamo che ci sono due o tre battute che sono esilaranti e poi il film comunque fa ridere è action è super 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 splatter quindi per gli avanti del cinema horror quello duro puro e anche un po' stupido è una goduria è abbastanza divertente e devo dire che è alla fine da quello che promette cioè Cocaine Orso è una horror comedy che parte un po' lenta ma poi recupera recupera e vi rimborsa quell'attesa con qualche bella risata un bel po' di action un bel po' di splatter un bel po' di dinamiche tra personaggi simpatiche e e poi arriva verso un finale un po' strambo che ricorda in qualche maniera i film a Lagunis queste avventure con i teenager protagonisti mi ha ricordato un po' questo e riesce ad essere assurdo strano splatter fino all'ultimo fino all'ultimo fino alle scene finali quindi è un film che io considero riuscito per il suo genere nonostante un inizio zoppicante e dove io ho visto anche una crescita uno sviluppo di un villain che secondo me può piacere perché l'orso 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 fa ridere l'orso fa ridere ed ha quel tipo di umorismo da proprio da film horror anni 80 ci sono tantissime cose che richiamano il cinema horror anni 80 ribadisco questo è un film totalmente privo di contenuti intellettuali psicologici è un film di intrattenimento duro e puro quello che io volevo era ridere in qualche momento mi ha fatto ridere volevo del sangue me l'ha dato volevo l'orso me l'ha dato me l'ha dato in abbondanza e quindi per me è un film che supera la sufficienza abbondantemente quindi un film per farsi una serata al cinema piacevole senza troppe pretese niente per me è questo sono abbastanza convinto che non finirà qua la questione cocaine animali grazie a tutti Grazie.